mamma mia ragazzi sono veramente sfatto dopo questa grande vittoria del monza questa innesima impresa della squadra di raffaele palladino che ha vinto 3 a 2 in casa contro la fiorentina vittoria in rimonta non ho la lucidità mentale necessaria per ricordarmi se già questa stagione avevamo fatto un'impresa simile a memoria a memoria vi dico di no è stata una grande partita da parte del monza che aveva cominciato così così ha sofferto nei primi 20 25 minuti poi ha rimesso la partita a posto la pareggiata addirittura ha segnato il gol del 3 a 2 nel primo tempo poi giustamente annullato per fallo di mano di matteo pessina e poi nella ripresa con grande freddezza il capitano ha rimesso le cose a posto dunque monza 3 fiorentina 2 ci aspettavamo una risposta così da parte del monza la volevamo perché comunque speriamo davvero di vedere il monza sempre più in alto in questa stagione la salvezza non basta più non che non sia stato un obiettivo importante anzi la squadra ha conquistato l'obiettivo salvezza con i denti la meritato questo obiettivo salvezza l'ha conquistata con due mesi di anticipo e ora però siamo diventati golosi ci piacerebbe vedere il monza ancora più in alto in classifica è chiaro che non è facile perché hai avversari più esperti più sgamati squadre che fanno la serie a da tanti anni è chiaro che è difficile arrivare nella parte sinistra della classifica però deve essere un obiettivo perché nella vita nel calcio devi sempre avere un obiettivo dei porti sempre un obiettivo ora che la squadra è salva è chiaro che l'obiettivo deve essere quello cercare di arrivare il più in alto possibile se arrivi ottavo hai vinto il tuo scudetto perché sei arrivato prima in classifica nella classifica delle squadre che vengono dopo le big perché dalla prima alla settima dal napoli fino all'atalanta quelle squadre lì non sono alla portata del monza dall'ottava in poi sì e allora saresti arrivato prima hai vinto il tuo scudetto quindi questo deve diventare l'obiettivo obiettivo importante perché eviteresti anche i turni preliminari di coppa italia avresti più risorse da da investire subito per il campionato e io credo che questa squadra possa davvero arrivare all'ottavo posto è chiaro che hai un calendario difficile da qui alla fine del del campionato perché hai la roma e l'atalanta ai napoli al sassuola il torino sarà sicuramente difficile complicato ma bello e avvincente per questo che voglio dare questo tocco voglio mettere questo obiettivo per dare ancora delle motivazioni ai nostri ragazzi anche se poi non ne hanno bisogno ho pensato male oggi nei primi 20 minuti ho detto ma che ma stanno già pensando al ponte stanno già pensando invece no invece mi hanno hanno smentito il mio pensiero il mio pensiero negativo ora testa allo spezia venerdì è una partita che il monza deve vincere che il monza vuole vincere e che i propri tifosi vogliono vincere anche per un altro motivo per fare anche un piccolo favore al nostro amico marco zaffaroni tecnico del verona che sta portando il salvo il suo verona è chiaro che se batti lo spezza fai un favore anche a un tecnico che ha fatto davvero la storia del monza e quindi saremmo davvero contenti contentissimi per lui poi è chiaro che noi dobbiamo pensare al nostro cammino e dobbiamo cercare di arrivare e ripeto il più in alto in classifica una nota particolare di merito oggi ad un giocatore fenomenale che ha dimostrato oggi di essere un fenomeno purtroppo nei mesi precedenti non ha fatto così bene si chiama gialluca caprari e dimostrato di essere veramente forte di essere veramente forte per me otto in pagelle è stato il migliore in campo qualche giocatore sotto tono oggi ma non importa la squadra comunque è saputo lottare nella difficoltà e quindi e quindi va bene così l'altra cosa davvero carina io sto rientrando da milano ho fatto la diretta telenova concordi il brianzolo tra poco la vedrete sulla pagina facebook di telenova l'estratto ho visto tante auto tornando a monza passando per monza come vedete sullo sfondo sono davanti al parco mi sono fermato un attimo per registrare questo video ho visto tanti tifosi tornare a casa con la bandiera fuori dai finestrini tanti tifosi in giro con la sciarpa mamma mia queste scene io non le ho mai viste dai tempi della serie c purtroppo ne vedevi pochi di tifosi in giro con i colori bianco rosso ecco il merito la bravura di questa società è proprio questo aver portato la passone bianco rossa in questa città mi ha dato un po fastidio vedere tanti buchi in tribuna est tanti posti vuoti peccato molti magari hanno anticipato il ponte per carità ci sta però diamine ragazzi siamo in serie a bisogna farlo prima o poi questo benedetto tutto esaurito magari lo faremo col napoli col da con la roma vedremo è un po questo ci vediamo domani sera su unica tv canale 75 con il bomber paolino monelli ci sarà giulio artesani di monza news ci sarà il vice sindaco egidio longoni parleremo anche di viabilità monza e non solo anche di prospettive se questa è una città da serie a o meno e aspetto i vostri commenti e le vostre considerazioni qui sotto ciao e alla prossima